Siamo qui oggi e vogliamo farti un po' di domande di te stessa, di quello che stai facendo, quindi se puoi raccontarci un po' dove sei, cosa fai al momento. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Milena, in questo momento sono a Londra, sono italiana e ho sempre vissuto in Italia e non ho mai studiato l'inglese. Mi sono ritrovata a New York un giorno da sola perché andavo a trovare mio figlio che ha fatto un anno, ha fatto veramente due anni, un anno a San Francisco e un anno a New York e quando sono stata a New York da sola, prima di incontrare mio figlio, è stato veramente terribile perché non sapevo nemmeno una parola a parte forse good morning e basta. E lì ho capito che dovevo assolutamente imparare l'inglese. Io nella mia vita ho studiato il tedesco e lo parlo abbastanza bene, un po' il francese e i miei viaggi sono sempre stati in Europa, in Germania per lo più, per il mio lavoro e quindi non ho mai avuto problemi di comunicazione. Invece là ho capito che dovevo assolutamente. E così che ho incominciato un po' da sola, sono stata tre settimane a Malta, ho fatto un corso e lì mi è servito tantissimo, però poi ero un po' bloccata, ho fatto un corso nella mia città che è a Rovereto, in provincia di Trento, però mi dava un po', mi dava dei problemi avere un orario fisso dover andare in quest'aula e quindi così. Un giorno poi in Facebook ho visto la pubblicità di Moxon English e ho detto, boh, provo, perché no? E ho parlato con Jeremy, ho fatto una prima lezione di prova gratuita e sono stata contentissima perché mi è servito tantissimo, mi serve tantissimo e ho imparato tantissimo. Ok. Hai detto che adesso stai a Londra. Da quanto tempo che stai a Londra e stai a Londra per motivi personali, per motivi di lavoro? Allora, sono a Londra dai primi giorni di ottobre. Sono venuta a Londra perché il mio compagno è stato trasferito qua per un anno e come l'ho saputo non ho esitato un attimo, ho lasciato il mio lavoro che mi piaceva tanto in Italia, lavoravo in una gioielleria e mi piaceva proprio tantissimo, però l'opportunità di venire a Londra per un anno era impagabile e quindi sono venuta e così le lezioni con Moxon English mi sono state ancora più utili perché ho potuto perfezionare e imparare tante cose, insomma, e anche chiedere, avere consigli quando non so qualche cosa lo chiedo alla mia insegnante e così risolvo i miei problemi. Certo, certo. E com'è la vita a Londra? Hai detto che fino adesso o prima hai fatto i viaggi in Germania o altri posti dove parlavi il tedesco, dove non avevi necessità di parlare in inglese. Com'è stato il trasferimento in Inghilterra? Quando sei arrivata a Londra che livello di inglese avevi più o meno? Oh, proprio misero! Nel senso, magari leggendo non avevo problemi, scrivere nemmeno era un grosso problema, sai, un po' con i traduttori, un po' con i vocabolari, però capire quello che mi diceva la gente o peggio, capire magari una telefonata o, che so, un colloquio in banca, quando ho aperto il conto in banca, era veramente difficilissimo, non capivo nulla, 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 nulla. È stato abbastanza difficile all'inizio e poi adesso, per esempio, e sono passati pochi mesi in realtà, non ho più problemi, riesco a capire quasi tutto e riesco a spiegarmi con tutti e questo devo dire, grazie davvero alle lezioni con gli insegnanti di Moxon English, perché sì, è vero che quando vivi in un posto sei costretto a parlare e incontri persone del posto, però non è che fai grandi discorsi in giro, che so, nella tube sono tutti con il cellulare, sì, sono tutti gentilissimi, Londra a me piace tanto, le persone sono gentili, disponibili, ti aiutano, io non ho mai avuto problemi, però non è facile fare amicizie, non è facile a Londra come non è facile ovunque, nemmeno in Italia è facile fare amicizie. Per esempio ho trovato utili qui a Londra i meetup, frequento un meetup dove ci sono delle persone inglesi, di madrelingua inglese, che si trovano con persone come me, proprio per aiutare a conversare e a migliorare l'inglese, questo l'ho trovato, ho fatto anche delle amicizie, così, frequentando questo meetup. E dove l'hai trovato questo meetup? Magari può essere utile anche a altre persone come te che... L'ho trovato online. Online? L'ho trovato online, io usavo i meetup in Italia, per esempio i meetup li usa solamente il Movimento 5 Stelle, ed è un mezzo eccezionale per fare gruppo, per trovare persone che hanno i tuoi interessi. Mio figlio, che vive a Londra, mi aveva accennato al fatto che lui, quando era venuto qua, si era iscritto a diversi meetup, anche per lavoro, lui fa software per i computer, e aveva trovato molte opportunità, ha fatto amicizie, conosciuto persone nell'ambito del lavoro e anche proprio per frequentare persone, ecco. I meetup sono veramente utili per questo. E quante volte ci sono questi meetup? Quante volte tu li frequenti? Oh, quante vuoi, perché ce ne sono tanti. Io ne frequento uno il martedì mattina, perché sono libera la mattina, perché ho trovato lavoro qui a Londra, come Nanni, perché io adoro i bambini, e quindi per la prima volta nella mia vita faccio un lavoro che veramente mi piace tanto. E quindi con i bambini, per esempio, vedo cartoni animati in inglese. In Inghilterra fanno dei programmi per i bimbi bellissimi. Ah sì? Sì, tutti sottotitolati in inglese, e quindi capisco anche le cose che non capisco sentendo. E veramente fatti bene, carini. Ok. E questo lavoro che hai trovato come Nanni, come l'hai trovato? Cioè l'hai trovato con l'aiuto di un'agenzia, per caso? Allora, ci sono diversi siti dove tu ti iscrivi, metti un profilo, metti la tua disponibilità, metti le tue qualifiche, e poi i parenti, i genitori ti contattano, e così ho trovato già due famiglie. Una famiglia aveva bisogno di una Nanni solo fino alla fine di gennaio, e vadavo una bimba che tra l'altro andava in una scuola francese, così ho rispolverato anche il mio francese. Adesso invece vado a due bimbi di una famiglia italiana, però appunto con loro parlo a volte inglese, perché loro sono bilingue, e vedo, se vedo i cartoni animati o alcuni programmi, li vedo in inglese. Quindi comunque mi è utile, insomma, questa attività, ecco. Quindi comunica anche in inglese con le famiglie, magari non con le famiglie, ma con i bimbi a farli anche in inglese. Bene, bene. Allora, mi potresti raccontare un po' della tua esperienza con lo studio dell'inglese? Ci hai detto che hai fatto un corso a Malta, ma prima ci hai iniziato lo studio a scuola, a liceo, come è andato il tuo studio? Ah, non l'ho mai studiato l'inglese, mai, perché io a scuola ho studiato il tedesco, io abito vicino a Trento, e da noi il tedesco è molto usato, non è come Bolzano una città bilingue, Trento. Però nelle scuole, quantomeno quando io ero piccola, si studiava quasi esclusivamente il tedesco. E di fatti ho iniziato a studiarlo alle elementari. Poi ho studiato all'istituto tecnico, ho studiato anche il francese, però sempre il tedesco come base. L'inglese non l'ho proprio mai, mai, mai studiato. L'ho affrontato per la prima volta a Malta, partendo proprio da zero assoluto, e lì tre settimane mi sono state davvero molto utili. Anche se, sai cosa c'è? In una classe non sei da sola con un insegnante, come con gli insegnanti di Moxton English. Tu con Moxton English hai un insegnante per te solo. E quindi fai un'ora, che è pienissima proprio, perché sei solo tu. Parli solo tu, vieni corretta solo tu. E quindi lo trovo veramente una cosa eccezionale. E in più lo fai da casa e eviti... Per esempio qui a Londra, se io dovessi andare a fare un corso, perderei di sicuro un'ora solamente per gli spostamenti, se sono fortunata che trovo una scuola vicina. Mentre così io alle 11, alle 10 ho la mia lezione, mi siedo al mio tavolo e sono a posto. Il corso che hai fatto in Malta, come era strutturato? Cioè era proprio un corso intensivo di tre settimane dove tu andavi ogni giorno? Cosa facevi? Come era più o meno strutturato il tuo corso? Andavo tutti i giorni, al mattino in questa scuola. Ho avuto due insegnanti bravissimi, veramente un signore poi un po' di una certa età che era una persona eccezionale. E lì ho fatto anche delle amicizie. Ovviamente c'era una ragazza russa, per esempio, che ricordo, un ragazzo giapponese, una signora francese che non capivo nulla perché aveva un accento francese fortissimo. Poi sono andata a vivere in una famiglia, avevo una host family, anche mi sono trovata benissimo, proprio come una vera studentessa, anche se non avevo più l'età. Quindi ero proprio immersa nell'inglese ogni giorno. È stato difficile i primi giorni, ecco, però poi dopo è andata meglio, anche se, insomma, comunque tre settimane sono poche per imparare. Quanto tempo fa hai fatto questo corso lì? A Malta ci sono andata, guarda, un cinque anni fa, penso. Poi ho smesso completamente perché ho trovato questo lavoro in questa gioielleria nella città dove abito, in Italia. E il lavoro di un negozio è pesantissimo perché praticamente dal mattino fino all'ora di cena sei impegnata in negozio e non avevo tempo. La sera ero anche stanca, quindi non avevo voglia di mettermi a guardare. C'è anche un'applicazione carina che si chiama Duolingo Online, che so che usate anche voi. Anche quella è carina, però anche lì ci vuole un po' di tempo per farla. E quindi ho smesso, per un tre anni ho smesso completamente. Poi che ho ripreso proprio per bene da quando sono qui a Londra perché ho più tempo, ho tutte le mattine libere perché è quasi impossibile trovare un lavoro come Nanni alla mattina. E quindi ho tempo, ma sono contenta perché sfrutto questa opportunità di vivere qua proprio fino in fondo. Certo, certo. E quando hai iniziato allora i corsi con Boxing English? Era ad ottobre? Quando sei stavi a Londra? No, 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 no. Ho iniziato prima. Ho fatto diversi corsi, sai. Però magari una volta alla settimana, due volte alla settimana, però senza poi dopo impegnarmi in una qualche altra attività, tipo guardare un film in inglese, leggere, che sono le notizie in inglese, perché non avevo il tempo materialmente. Ecco, che lo sto facendo e infatti sono migliorata tantissimo, proprio io me ne accorgo e se ne accorge anche la mia insegnante, Bernice di Boxing English. Pensa che adesso sto facendo due corsi con Boxing English. Ecco, raccontami un po' della tua esperienza con Boxing English, perché la tua esperienza è un po' diversa degli altri, in senso, come hai detto, stai facendo due corsi con due insegnanti diverse. Raccontami un po' come sono, come è un corso, come è l'altro, perché stai facendo due corsi? Allora, ho pensato di fare due corsi per risolvere un po' le mie problematiche di comprensione, nel senso che a seconda dell'accento delle persone con le quali avevo un dialogo o a seconda della velocità di come parlano, avevo più o meno difficoltà a capire. Allora, con Bernice, che è stata la mia prima insegnante di Boxing English, a parte un rapporto oramai di amicizia, proprio, veramente, e non avevo problemi perché lei aveva imparato ad ascoltarla e a capire il suo accento. Però, vedendo qua a Londra, ho visto che con alcune persone proprio non riuscivo a capire o facevo veramente molta fatica, così ho chiesto di avere la possibilità di fare due corsi per avere diverse persone con le quali interloquire. E ho visto che è stato veramente utile anche questo. Ok. Ci sono delle differenze tra i due corsi che stai facendo, a parte l'accento ovviamente, ma il modo in cui sono strutturati, ci sono, non so... Ma, sai, io ho visto che alla fine poi il corso viene fatto a seconda delle tue esigenze. Avendo un insegnante per te sola, tu puoi chiedere, io vorrei dialogare, vorrei avere, che so, un ripasso di grammatica, vorrei imparare vocaboli. E quindi, allora, diciamo che con Bernice più che altro dialoghiamo. Peraltro, utilizzando il vostro notepad, si chiama, mi pare, ho la possibilità poi di andare a vedere, perché anche Bernice corregge eventuali errori, eventuali... mi scrive vocaboli nuovi. E quindi anche dopo, finita la lezione o a distanza di tempo, ho la possibilità di andare a rivedere un argomento, un... che so, i verbi o una qualsiasi cosa. Con l'insegnante, con l'altra insegnante, diciamo quella, tra virgolette, nuova, perché con Bernice ho fatto più corsi, con Vicky, dall'inizio ho chiesto di avere degli insegnamenti relativi alla grammatica, perché mi manca un pochettino i verbi, al passato, sono un po' difficili. E quindi, con lei, facciamo più esercizi anche, mi dà dei compiti da fare, se ho tempo, ovviamente, e quindi poi li rivediamo assieme, mi segnala quali sono gli errori, mi spiega... Insomma, io lo trovo veramente un sistema eccezionale, sono una fan, proprio. Bene, noi siamo molto contenti. E quante lezioni più o meno a settimana fai adesso, con i due corsi? Allora, faccio con... con Bernice facciamo delle lezioni di mezz'ora, al mattino, abbastanza presto, e con Vicky invece facciamo delle lezioni di un'ora, e di solito faccio un tre ore alla settimana, metti tre, quattro, a seconda del tempo, poi magari saltiamo una settimana se io vado in Italia, o se ho dei problemi di lavoro, e il bello è anche questo, che non è un orario fisso, e ti organizzi un po' come vuoi, a seconda delle tue esigenze, ecco. Ecco. E quanto... quanto tempo dedichi allo studio da sola? Diciamo, per i compiti, per altre cose che ti piace fare? Allora, per i compiti, non un gran che, insomma, è una cosa che nel giro di una mezz'ora riesco a fare. Per il resto, uso tutto il tempo che posso, nel senso che guardo dei film, con i sottotitoli in inglese, così, perché è difficile, un film non è che lo capisci facile, però con i sottotitoli mi facilita tantissimo. Leggo le notizie, ho messo tutte e quanti i miei computer cellulari con la lingua inglese, e ho sempre aperto Google Translator, così se non so un vocabolo posso andare a vedere cosa vuol dire. Cioè, veramente, cerco di sfruttare questo periodo qui a Londra, dove ho anche tempo, perché il lavoro me lo permette, proprio cerco di imparare più che posso. Adesso devo, anche perché non ho vent'anni, e quindi non ho davanti chissà quanto tempo per imparare questo inglese. Devo adesso, voglio impararlo bene. Forse questo è pure che tu vuoi veramente impararlo. Sì, 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 sì. Anche perché ho un figlio, ho due figli, ma il secondo è molto vagabondo, e quindi se voglio ogni tanto andare a trovarlo, anche se i figli poi devono fare la loro strada, ma se voglio andare, come quella volta che sono andata a New York, no, non posso più, veramente, è stato terribile. Sì, come era la tua esperienza a New York? Riuscivi a farti capire, riuscivi a dire qualcosa o proprio niente? No, niente, niente, è brutto, sai, non capire, è bruttissimo, e non potersi spiegare. Anche adesso, qui a Londra, ai primi tempi, mi sono sentita così male a non riuscire a comunicare con le persone, a dire quello che ho in testa, quello che... È veramente brutto. E l'inglese è una lingua bellissima, perché ti permette di comunicare con quasi tutto il mondo, perché l'inglese è parlato ovunque, e quindi è veramente un peccato non impararlo. Certo, certo. C'è qualcosa che ti ha proprio aiutato a migliorare il tuo inglese, a parte le lezioni come Oxford English, a parte i corsi, non so, un'attività che hai forse in meetup, o qualcosa proprio che dici, questa cosa mi ha aiutato tantissimo a migliorare? Saranno forse il film? Allora, guarda, come base la prima cosa le lezioni con Oxford English, perché avere un insegnante tutto per te per un'ora è impagabile. Io ho visto anche il corso fatto a Malta, per esempio, però in classe eravamo metti una quindicina di persone, quindi sì, ascolti la lezione, magari puoi dire qualcosa, o l'insegnante ti chiede, però non è mai un'ora da sola con un insegnante, quello a me ha aiutato tantissimo. Poi certo che tutto il resto, i film, ti abitua ad sentire, ad ascoltare l'accento oppure leggere, sarebbe importantissimo riuscire a parlare tanto e non è facile, perché non è che puoi andare in giro a fermare la gente per strada e dire scusa, piaccheri un po' con me, puoi provare, io ho chiacchierato con una ragazza, io poi parlo molto facilmente, ho parlato con una ragazza giapponese sul treno e quindi vabbè, però non puoi sempre andare lì se uno è lì col cellulare e dire scusa, potresti un attimo chiacchierare oppure mi dici, sì, chiedi un'informazione come prima cosa e allora lì è già un buon inizio, magari poi puoi continuare, ma magari poi quello scende e quindi tu rimani lì e non puoi più, non è facile insomma trovare persone da chiacchierare. Ok. E anche il lavoro, è difficile trovare un lavoro in un ambiente inglese se non sai bene l'inglese perché non ti pigliano. Certo, se tu non conoscevi l'inglese immagino che adesso, in questo momento non saresti riuscita a trovare il tuo lavoro come babysitter. No, nemmeno e forse adesso potrei trovare un lavoro che so, in un ufficio come segretaria perché io ho molta esperienza in Italia però non sapendo la lingua cosa fai? Certo, non ne ho trovi lavoro in un ristorante italiano metti forse però non posso neanche perché se vengono i clienti inglesi appunto devi comunque saper dire cosa le porto se capisci un po' devi e in questo momento qual è la cosa più difficile per te con l'inglese? Cioè ti rimane qualcosa difficile qualcosa che ti fa diventare un po' nervosa non so qualcosa con il parlato hai qualche difficoltà ancora che non riesci a superare? Trovo difficili verdi il past tense tutte queste cose qua le trovo abbastanza difficili sai cosa grazie al cielo adesso riesco ad andare un po' a orecchio non tanto per quello che studio magari perché poi nel momento che parlo me lo dimentico un po' non è facile riesco a sentire un po' che è meglio se dico in un modo piuttosto che nell'altro io credo che l'importante sia non farsi troppi problemi cioè l'importante è parlare e se poi sbagli io suppongo che gli altri capiscano che se sei straniero non puoi parlarlo perfettamente l'inglese o una lingua straniera l'importante è proprio dire vabbè dico quello che devo dire e poi spero che li capiscano e certamente insomma studiarlo cercare di migliorare in quel modo certo certo perché hai scelto di fare un corso con un insegnante madrelingua invece cioè non hai scelto invece di fare un corso con un'applicazione sai tu hai detto Duolingo Duolingo non offre cioè sono tutti corsi gratuiti ma ci sono tante applicazioni come Babel altri corsi che puoi fare che sono corsi senza insegnante perché hai deciso di fare un corso con un insegnante un corso privato ma oddio adesso io ho dato un'occhiata a Babel a dirti la verità non mi ricordo neanche più perché non mi era piaciuto un granché Duolingo l'ho trovato carino però è limitativo a parte il fatto che ogni tanto trovo anche degli errori in Duolingo quindi vabbè è un'applicazione è gratuita quindi va bene va benissimo poi è molto ripetitiva quindi prima o poi una cosa la impari un vocabolo a forza di sentirlo di doverlo scrivere lo impari pure insomma però è diverso che non avere un colloquio vis-à-vis con una persona oltre al fatto che a me piace tantissimo conoscere persone nuove ho provato anche ci sono dei siti online dove tu puoi metterti in contatto con altre persone che vogliono dialogare e chiacchierare però non ho avuto grandi riscontri secondo me non sono fatti molto bene o non funzionano molto bene ma magari ho sbagliato qualcosa io non lo so insomma e quindi sì a me piace di più avere un contatto anche vabbè insomma fisico ma comunque con Skype è quasi come averlo fisico insomma hai una persona di fronte puoi comunicare tantissimo certo quello volevo anche chiederti secondo te ci sono delle differenze rispetto a un corso online che è un corso sai quello per esempio che hai fatto a Malta un corso di persone no le differenze io le trovo positive ecco per il fatto che hai comunque un contatto umano nel senso che con il tuo insegnante non hai dei compagni di classe questo è vero peraltro i compagni di classe sono per lo più persone che sono al tuo livello e quindi non è che ti arricchiscono un granché al livello di apprendimento sì fai amicizie che è bellissimo per l'amor del cielo io adoro conoscere persone nuove però parlando proprio dal punto di vista imparo l'inglese io trovo che un corso online sia stupendo perché lo hai in casa non devi uscire col brutto tempo non devi perdere tempo nei trasporti nello spostarti e hai tutti i vantaggi di avere un insegnante a tua disposizione per un'ora io veramente sono felicissima di questa cosa specie in una città grande come Londra ma sarebbe uguale forse a Roma o a Milano insomma è difficile che trovi un corso proprio sotto casa o vicino devi comunque prendere dei mezzi e quindi certo anche delle spese di trasporto ovviamente esatto poi il tempo tutti quanti vedo che hanno problemi con il tempo tutti abbiamo poco tempo e così io riesco a sfruttare un'ora di lezione senza perdere neanche un secondo in più secondo te come è la situazione in Italia attualmente con l'inglese con lo studio pensi che c'è qualche miglioramento in senso che i giovani iniziano a studiare di più noti se ritorni in Italia se senti se vedi o pensi che non è cambiata più di tanto guarda poche persone poche persone studiano bene l'inglese purtroppo la scuola a mio avviso insegna poco io ho studiato ti ho detto tanto il tedesco ho cominciato all'elementare ed ero in una scuola privata l'ho studiato veramente tanto però l'ho imparato quando poi l'ho dovuto usare per lavoro quando ho cominciato a viaggiare in Germania purtroppo la scuola dovessi fare io i programmi scolastici eliminerei tante materie a mio avviso inutili e proprio punterai tantissimo sullo studio delle lingue straniere l'inglese come base perché l'inglese è una delle lingue parlate un po' ovunque tutti la studiano tutti la parlano e vedo penso sia anche parlando nell'ambito poi dopo del lavoro che aiuti tantissimo a sapere bene l'inglese purtroppo al giorno d'oggi se tu vuoi imparare bene l'inglese non ti è sufficiente quello che impari a scuola assolutamente no a mio avviso devi per forza di cosa andare all'estero a fare delle vacanze in studio oppure lo impari bene quando sei sei all'estero o devi avere la possibilità di avere delle lezioni o di fare dei corsi e allora certo la volontà vuol dire tanto perché se vuole a scuola non è sufficiente devi fare extra un corso o una vacanza studio o magari partire all'estero sì ok e parlando di nuovo dei meetup che tu frequenti come si svolgono questi meetup cioè tu vai dove si svolgono cosa si fa cosa ci sono io ho cercato online meetup mi sono ero già iscritta veramente ho messo quello che quello che mi piace sai i miei hobby i miei gusti e così via io ho cercato conversazioni proprio conversation e me ne sono venuti fuori diversi meetup ho guardato un po' e ho visto che ci sono queste persone se vuoi ti metto anche il link poi di quello che se mai un sito così potrebbe cosa un sito che dove cerchi proprio metti tutti i tuoi dati quello che ti piace lui ti fa il sito ti fa vedere dove ci sono che gruppi ci sono esatto esatto ok magari ce lo mandi potrebbe essere interessante alcuni sì perché guarda sono andata là la prima volta e tra l'altro pensavo fosse più una cosa per ragazzi giovani per studenti sai ho detto però siccome io sono curiosa e non mi interessa vado e vedo e guardo e sono andata là e ci si trova normalmente in un locale in un bar in un e arrivi là e trovi vedi dei tavoli c'erano dei tavoli là in fondo e sono andata là ho chiesto siete del meet up sì mi hanno detto oh welcome e così mi sono seduta quando arrivi e sei nuova fai una piccola presentazione di chi sei di cosa fai da dove vieni e via e ci sono per esempio solitamente due persone nel gruppo che frequento io inglesi e che così si chiacchiera oppure fanno anche dei giochi tra virgolette per esempio c'erano dei dadi molto grandi su ogni facciata c'era una domanda o una domanda e così che per per conversare insomma per favorire la conversazione è veramente molto carino e in più conosci persone c'era questo c'era un ragazzo un signore spagnolo che ha raccontato che so cosa mangiano in Spagna a colazione per dire cavolate così però è simpatico conoscere cose nuove persone nuove abitudini nuove devi pagare per questi meet up sono gratuiti ma allora guarda lì in questo ma penso in tutti perché avere avere un meet up o aprire un meet up perché puoi aprirlo anche tu un meet up ti costa un tot all'anno adesso non ricordo più proprio avere accesso a questa piattaforma e quindi normalmente chi apre un meet up chi organizza un meet up chiede una quota di iscrizione che è di 5 pound quindi annua quindi niente di trascendentale e poi tu vai là se consumi qualche cosa nel locale dove ti trovi ovviamente lo paghi però è gratuito ok e quanto dura un appuntamento più o meno un'oretta un'ora scusa due ore due ore e una volta a settimana tu lo frequenti più o meno una volta alla settimana questo meet up organizza anche degli degli incontri alle mi pare alle 6 e mezza il giovedì io vado il martedì alle 10 e mezza dalle 10 e mezza alle 12 e mezza e mi pare che è il giovedì alle 6 e mezza però io lavoro il pomeriggio quindi non riesco ad andare il giovedì ce ne sono anche la sera poi ci sono meet up che organizzano cene che organizzano cocktail che organizzano ma ce n'è di tutti i tipi per chi ama lavorare a un cinetto per chi c'è di tutto ok quindi sono è una possibilità per parlare quindi tu lo trovi utile come come attività la trovi utile noi possiamo anche consigliarlo magari a più persone ai nostri studenti di frequentare questi meet up si 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 perché così hai la possibilità di incontrare persone persone che vogliono incontrare altre persone quindi è perfetto parlare dei miei si ok e parlando del tuo lavoro è stato facile per te trovare il lavoro? facilissimo facilissimo si io mi sono iscritta a questo questo sito e diciamo che io sono arrivata a Londra ai primi di ottobre non ho cercato subito perché cerca l'appartamento apri il conto in banca tutte queste cose burocratiche e mi hanno portato via un po' di tempo all'inizio poi sai vai a comprare le cose che ti servono in casa quindi non ho avuto tante cose da fare e poi ho lavorato novembre dicembre gennaio subito ho trovato subito lavoro quanto quanto lavori a settimana più o meno quante orette lavoro tre pomeriggi in settimana attualmente prima quando tenevo anche l'altra bimba quando badavo anche l'altra bimba lavoravo tutti i pomeriggi normalmente viene richiesto la richiesta è per dalle tre del pomeriggio metti quando vai a prendere i bimbi a scuola poi li porti a casa fai i compiti fai la merenda il bagnetto e cose così fino verso le sette mezza otto quando tornano i genitori questo è il grosso del lavoro poi trovi anche al mattino per i bimbi piccoli però già questo diventa devi avere inizi presto la mattina io voglio avere anche il tempo per me per vedere londra per studiare l'inglese quindi non non sto cercando non ho nemmeno mai cercato un lavoro proprio a tempo pieno tutta la giornata però è una grande opportunità per le ragazze questo lavoro perché poi anche ragazze che vengono a Londra senza soldi possono fare la nani au pair e quindi hanno un alloggio vitto e alloggio ricevono comunque un piccolo compenso e è un buon sistema se una persona ha voglia di andare via dall'Italia ok e com'è la vita a Londra cioè a te piace cosa fai cosa si può fare la trovi non so nel tuo tempo libero cosa si può fare cosa fai guarda puoi fare tutto quello che vuoi Londra è bellissima perché vabbè bellissima come tutte le città io amo le grandi città perché sono una persona curiosa e quindi mi piace vedere sempre cose nuove io sono vissuta in una città piccola perché è una città di 30.000 abitanti quindi ti puoi immaginare e quindi è estremamente noiosa dove conosci tutte le persone dove c'è un solo cinema dove i ristoranti sono 5-6 dove il teatro ce n'è uno e non sempre fa qualcosa quindi Londra a me piace tanto tantissimo e poi trovo che le persone i londinesi siano persone molto aperte molto allegre molto gentili molto tolleranti io non ho mai sentito nessuno arrabbiarsi o lamentarsi il tempo non è poi così terribile magari in Sicilia è più bello senza dubbio però dove abito io a Trento insomma più o meno è così io veramente mi trovo bene io starei qua per sempre ok quanto tempo stai ancora a Londra si sa già quando dovete ritornare allora di sicuro fino alla fine di settembre forse di più io spero di più ok senti un'ultima domanda un consiglio che tu vorresti dare a tutti gli italiani tutti gli studenti che vogliono migliorare l'inglese chi per motivi di lavoro chi per motivi personali chi per trasferirsi all'estero a Londra o in Australia eh beh per forza di cose bisogna sapere bene una lingua io ho visto quanto è difficile se non la sai meglio la sai meglio è più opportunità hai e quindi io veramente consiglierai a tutti di investire tempo tanto e soldi tutti quelli che è possibile investire nell'imparare una lingua è importantissimo è veramente importante ed è così frustrante non sapersi spiegare non capire io vedo anche tanti italiani qui a Londra le difficoltà che hanno proprio per perché non sanno bene l'inglese e saper bene una lingua non è non è facile non è neanche una cosa veloce però vale la pena veramente investirci tantissimo io sono proprio perché a me è mancato e quando io ero piccola non c'erano tutte le posti non c'era internet non c'era niente di tutto ciò le persone non viaggiavano nemmeno così tanto i ragazzi non andavano all'estero a studiare e quindi era era difficile imparare bene una lingua insomma certo adesso sono queste possibilità e io direi proprio di vincere anche la paura dell'andare via dall'Italia dell'andare all'estero perché ti apre la mente proprio certo certo ok allora Milena ti ringrazio per noi è stato un piacere ovviamente siamo molto contenti che i tuoi corsi vadano bene con Boxing English che il tuo inglese è migliorato che ti trovi bene a Londra perché ovviamente il tuo successo è il nostro successo quindi io vi devo ringraziare davvero tanto perché aver trovato voi è stata per me una grandissima fortuna proprio bene bene siamo molto contenti allora ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto ok anche io a te ciao buona giornata grazie a tutti grazie a tutti